In questo video vi voglio condividere uno studio che non è il mio, è ben fatto, poi insomma vi andrò ovviamente a raccontare di chi è, chi lo ha prodotto, è molto interessante, va a fotografare la disconnessione enorme potente che c'è in termini macroeconomici, quindi questo si va a riversare sulle economie e sui mercati finanziari. E' veramente incredibile quello che c'è oggi e perché ci sono delle false speranze secondo questo studio e quindi la recessione dovrebbe veramente essere inevitabile. Alla fine del video, terminato questo studio, questo racconto, andremo a fornire quelle che sono le mie considerazioni finali, soltanto opinioni e semplicemente poi uno come agire ed è tutto molto semplice in realtà. Bene, io vi auguro una buona visione, iscriviti al canale e lasciate un bel like per sostenere tutto quanto il mio lavoro qui sul tubo. Ed eccolo qui le pdf della Principal Asset Management. Poche pagine, poche righe e pochi grafici, ma del tutto esplicativi per comprendere la disconnessione potente che vi è a livello macro negli attuali mercati. Pertanto andiamo qui a studiare insieme quattro punti fondamentali. Il primo è quello che viene fornito e descritto da due grafici e da due metriche che sono predittive, hanno sempre funzionato per quanto riguarda le recessioni. Qui a sinistra abbiamo l'inversione del rendimento dei treasury americani con scadenze differenti. Nello specifico non si tratta, come sempre, della relazione, del rapporto che c'è fra le scadenze decennali e quella a due anni, bensì qui vi sono le scadenze decennali in relazioni a quelle a tre mesi. Ed è un ratio molto importante e funzionale per questi studi. Difatti, vedete qui, quando va al di sotto della linea dello zero, poi soprattutto se il periodo negativo perdura ed è importante a livello numerico, vedete poi si scatena sempre una recessione e la sua durata è data dalle colonne azzurre. Allo stesso tempo, qui a destra, andiamo a vedere la previsione della Fed, ovvero è una proiezione che ci fa intendere come la disoccupazione dovrebbe salire di 0.6 punti percentuali. Quando questo accade, solitamente si scatena una recessione. Del resto, ci troviamo sui minimi in termini di disoccupazione e questo è sempre molto rappresentativo di un ciclo espansivo che è giunto al suo termine. Andiamo a vedere la fase 2 di questo PDF, diciamo il secondo punto. Va a parlare del mercato del lavoro e qui si va a sottolineare quella che viene definita una speranza falsa. Difatti, il mercato del lavoro statunitense si mantiene davvero resiliente, forte e addirittura c'è paura che possa alimentare ulteriormente l'inflazione. Quindi sentiamo la Federal Reserve che combatte, continua ad alzare i tassi e così via. E allo stesso tempo abbiamo anche una condizione particolare, ovvero il posto vacante, il numero dei posti vacanti del lavoro, quindi in termini di offerte, sta in cano. Tuttavia l'occupazione si mantiene forte, ovvero non è aumentata la disoccupazione. Qui a destra invece vediamo un altro valore interessante, ovvero quando vi è un asprimento creditizio, delle condizioni creditizie, ovvero si fa molta più fatica, si è molto più restrittive nella concessione di credito verso le aziende, inevitabilmente poi andrà a salire quella che è la disoccupazione. E' chiaro che ci saranno delle problematiche. Quindi la resilienza del lavoro è falsa o quantomeno la situazione del prossimo futuro non sarà super brillante come quella attuale. Poi si mette il punto qui, si va a evidenziare la vulnerabilità, al punto 3, del mercato delle equiti, quindi del mercato azionario. Se qui a destra abbiamo una condizione di cui abbiamo parlato spesso e volentieri, ovvero di un S&P 500 comunque supervalutato secondo tutte quante le metriche oggettive storiche, qui addirittura vi è una relazione di dove si trovano le aziende, vede qui il Manufacturing PMI, e dove si trova l'S&P 500. Dovrebbero più o meno andare a braccetto, ma adesso lo spread è potentissimo. Della serie l'indice è molto più in alto rispetto a quanto dovrebbe essere, se è vero che dovrebbe anche esistere una relazione con l'andamento delle aziende. E qua a sinistra abbiamo la fotografia degli investitori individuali, ovvero qui guardiamo con la linea quella scura quello che è il sentiment. Non è ai massimi livelli, ma si mantiene buono, non è nemmeno sotto le scarpe. E l'allocazione azionaria è comunque potente, quindi mantengono gli investitori individuali, mantengono i loro investimenti in ambito azionario. Quindi diciamo che si è esposti tanto in equities, vi è una discreta fiducia con un indice comunque caro. E andiamo a vedere il quarto punto, ovvero quello che ci preme tanto, secondo me. Ossia la relazione in questo momento, quindi proprio la fotografia, dell'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed e quanto vanno a pagare gli interessi le aziende. Vedete, linea azzurra e linea blu. Quindi diminuzione della linea blu e aumento invece della linea azzurra. Ma qui a destra vediamo l'impennata gigantesca con la linea azzurra proprio di quelle che sono i rialzi del standard creditizio da parte delle banche. Cioè vi è più difficoltà non solo nell'accedere al credito, ma una volta che uno va ad accedere a un prestito, a un finanziamento, a un mutuo, a qualunque cosa di questo genere, lo farà proprio a delle condizioni peggiori rispetto al recente passato. Dovrà pagare degli interessi molto importanti. E attualmente la verità, quindi quello su cui va a insistere il principal asset management, se si leggono poi queste righe qui, fra le altre cose, è quello che attualmente le società non hanno ancora vissuto diciamo la conseguenza del rialzo dei tassi. È molto lento, anche più del solito, quello che dovrà essere il risultato. E quindi per quello qua la Fed dovrebbe anche stare molto attenta, ovvero stanno ancora scadendo tanti prestiti. Prestiti concessi a dei tassi estremamente agevolati rispetto a tutta quanta la storia dell'umanità. E quindi molte aziende devono ancora rifinanziarsi o hanno scelto di finanziarsi. Ma presto sarà inevitabile che questo accada. Quindi cambierà tutto. Perché una volta pagate le ultime rate a dei tassi comunque buoni, agevolati, si andrà incontro a una nuova realtà. quando serviranno nuovi prestiti. E questo dovrebbe creare delle difficoltà gigantesche. Quelle difficoltà che non sono ancora state vissute. Ecco perché vi è tantissima resilienza o ecco perché vi sono secondo molti analisti delle aspettative positive un po' false. Questa volta nell'attuale ciclo il ritardo delle azioni della Fed è importante. Proprio perché nel recente passato in maniera prolungata vi erano state delle manovre fortemente espansive. E le stesse hanno supportato a lungo le condizioni economiche anche in un nuovo cambiamento di paradigma di regime restrittivo. Della serie vi è stato un regime espansivo talmente potente che sta mettendo in crisi la politica restrittiva ovvero necessita di più tempo per funzionare ma della serie poi quest'onda arriva quindi massima attenzione ecco su cosa va a insistere questo studio e cosa raccontano questi grafici e quindi come sempre qual è la conclusione? Rieccomi qui a schermo e quindi qual è questa conclusione? Qual è la morale della favola che si potrebbe essere tentati ma davvero tanto per tutti i motivi che vi ho portato qui negli ultimi mesi su questo canale ad affermare questa volta è diverso proprio perché gli indicatori macroeconomici sono innescati ma le conseguenze non sono quelle a cui siamo abituati poiché le cause sono state molto differenti ovvero la pandemia sommata poi a dei fatti come il conflitto bellico in Ucraina e poi soprattutto a delle manovre espansive senza precedenti ma allo stesso tempo ricordiamoci che nell'ambito dell'economia degli investimenti in ambito finanziario andare ad affermare questa volta è diverso è veramente l'assersione più pericolosa che esista al mondo soprattutto se accompagnata dai fatti ovvero da azioni che vanno ad accompagnare quell'affermazione di un certo punto uno è convinto io non voglio ovviamente fare allarmismi spaventare nessuno anzi sono sempre abbastanza positivo sicuramente ma ci tengo a rendervi consci ovvero esistono tutte quante le fasi di un ciclo economico che dovrete necessariamente vivere e quindi essere semplicemente preparati e pronti senza mai cadere nella disperazione o nell'euforia e come si fa semplicemente tramite una programmazione una pianificazione personalizzata finanziaria che dovete scegliere voi inerentemente a quelli che sono i vostri obiettivi e a quella che è la vostra persona e accompagnare il tutto da un giusto mindset ovvero convincersi a rispettare quelle che sono le proprie regole e non a farsi trascinare dalla corrente del momento e che significa una pianificazione significa semplicemente aver sposato una filosofia di investimento e portare avanti il proprio piano di accumulo i propri incrementi oppure la strategia che si è scelta ha delle regole e rispettarle o ancora avere un portafoglio diversificato magari un lazy portfolio un portafoglio permanente rispettare quelle che sono le percentuali e ribilanciarlo secondo quelle che sono le regole ma farlo sul serio non inventarsi qualcosa è fare i fantasisti perché si ha una sensazione particolare si chiede di avere il stesso senso o sta accadendo qualcosa che ci sembra straordinario o non ci siamo confidenti uno ha una programmazione e deve portarla avanti soprattutto in questo periodo non finirò mai di insisterci bene ragazzi se avete apprezzato questo contenuto io vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel like fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate tutti quanti gli indicatori che vi ho mostrato se siete molto d'accordo con l'analisi fornita da quel pdf insomma dal gruppo di cui vi ho parlato e soprattutto se per voi questa volta sarà diverso o sarà tutto quanto uguale ciao ragazzi a presto grazie grazie